Non ha esitato a sventrare con una miscela potentissima al suo centro estetico e l'intero stabile con altri negozi. A quasi un anno dall'incendio è finito in manetta il responsabile dell'esplosione che ha distrutto il centro commerciale Sorelle Ramonda Sant'Angelo di Piove di Sacco. Il piromane è Dennis Zennaro, 49 anni, il titolare del centro estetico che poco prima del rogo aveva chiuso l'attività. Duplice il movente ricostruito dalle indagini dei carabinieri. Il movente principale è quello del risarcimento economico scaturito dai danni che sono stati arrecati soprattutto all'interno del centro estetico relativamente a due macchinari di cui l'indagato era in possesso. Riteniamo che il motivo secondario possa essere anche legato al rancore che l'indagato aveva nei confronti anche di altri occupanti dell'immobile che avevano promosso uno sfratto esecutivo per morosità nel centro estetico che aveva generato poi la chiusura dell'esercizio. Voleva intascare i soldi dell'assicurazione per questo poco prima del 9 giugno 2016 aveva alzato il massimale della polizza. Poi c'era il rancore nei confronti degli altri commercianti che lo volevano cacciare per morosità. Per questo la notte dell'esplosione ha aperto due bombole di gas propano, poi ha gettato benzina in tre punti e ha acceso un fornello elettrico. L'esplosione era stata così potente che aveva sventrato lo stabile facendo volare a diversi metri di distanza finestre ed infissi. Per colpa di quell'incendio di lì a poco le attività presenti nello stabile avevano chiuso lasciando a casa decine di dipendenti. Un impatto notevole che ha danneggiato il tessuto economico di questo comune del Piovese che ora vuole rialzarsi. Per un comune come il nostro ma per tutto il Piovese l'evento è stato un evento estremamente importante e credo dal punto di vista sociale con delle ripercussioni di peso. Nella speranza anche che l'avere individuato i responsabili o il responsabile possa anche portare una prospettiva nuova da parte di Sorelle Ramonda. Grazie.